cosa posso fare se ho febbre tosse mal di gola o difficoltà respiratorie se negli ultimi 14 giorni sei stato in cina o hai avuto contatti stretti con persone malate di nuovo coronavirus chiama il numero gratuito 1500 resta in casa usa fazzoletti monouso lavati spesso le mani e indossa una mascherina